Sì, non veniamo da una bella partita ad Ascoli a livello caratteriale, no? La mia squadra non so cosa gli è, però noi siamo pronti in questo momento, sappiamo benissimo. Il derby va affrontato con molta attenzione, ci sono tre risultati, noi la partita la giochiamo anche se ho parecchi giocatori fuori, voglio, vorrei recuperare anche Daniele che è un giocatore importante per noi come tutto il resto d'altronde. È una partita, è un derby, giochiamola senza timore, senza paura, con rispetto dei ruoli, no? Loro sono su e noi siamo a metà, noi ci serve i punti per una serenità nostra, per la nostra serenità, perché io credo che questi, al di là delle mie ogni tante picconate che do ai miei giocatori, devo dire che questi sono ragazzi che hanno 48 punti, insomma, hanno fatto sul campo e ce l'hanno torto tre. Ma al di là di questo è ovvio che in questo momento dobbiamo cercare di fare una bella partita. Senti Walter, al di là del clima derby e della sua retorica, che lascia comunque il tempo che trova, perché poi alla fine si ritrovano 11 calciatori contro altri 11 in campo e l'ambiente circostante può valire fino a un certo punto, dal punto di vista tecnico le due squadre arrivano in qualche modo in maniera diversa. Sebbene Ravellino abbia purtroppo fatto una figuraccia da virgolette ad Ascoli, insomma, comunque veniva da una consistente serie positiva di 11 punti nelle ultime cinque partite, insomma, qualcosa di assolutamente concreto. Cosa invece assolutamente diversa per il benevento che non certamente gode di buona salute, se pensiamo che le ultime 12 partite ne ha vinte solo due, ne ha perso addirittura sette. Insomma, uno Stato, se non comandoso, ma quasi. Dal punto di vista ecotattico, probabilmente la gara a centrocampo si deciderà, dove Ravellino si presenta, dal punto di vista quantitativo e portato in quantitativo meglio del benevento, perché il benevento soffre moltissimo nella fase di non consesso, perché non ha, culturalmente, calciatori, diciamo, adusi a questo tipo di situazione. Tra l'altro c'è Del Pinto che è infortunato, per cui, insomma, l'Avelino, se riesce a prendere il sopravvento come dovrebbe essere, per lo meno, per lo meno, per lo meno, potrebbe avere grosse possibilità. Beh, io credo, come hai detto tu, l'Oro però è una squadra che ha un triangolo rovesciato in avanti, con Ciciretti, con Ceravolo che sa staccare bene lo spazio e con Falco che sa lavorare bene dentro le linee. Noi abbiamo lavorato, stiamo lavorando su questo, cercando di bloccare un attimino le loro giocate, perché è una squadra che onestamente ha grande qualità, è inutile nasconderlo, viene da una sconfitta, ma non dimentichiamolo che è il primo tempo di Cesena. Il Benevento ha giocato molto bene, io l'ho vista la partita e ha giocato molto bene, ha preso dei gol in nove minuti. È un derby, i derby vanno saputi giocare, cioè, come hai detto tu, è una partita che bisogna saperla affrontare a metà campo, è una partita che in questo momento è delicata per loro e per noi, ma chi ha più fame potrà riuscire a portare a casa un risultato, insomma. Mister, vuoi fare sulle condizioni di chiede del tema? Le condizioni di Daniele? Daniele sto cercando di recuperarlo, perché al di là della prestazione, è un ragazzo che a me piace, come ho sempre detto. Io sto cercando di tutte le maniere per recuperarlo. Gonzales, come sapete, non c'è, non c'è Migliorini, non c'è Castaldo, non c'è... Io devo cercare un attimino di recuperare quei giocatori che sono convinto che sia Bedoi, Belloni, qualcuno ci darà una grande mano domani, dopo domani. Sì. 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 Ma no, io... Il calcio per me, una volta per tutte, vi spiego cos'è per me il calcio. Per me il calcio è disciplina, è tensione, è concentrazione, è un lavoro, è un divertimento, ma è più Poi altro è un divertimento, è un lavoro, ma è disciplina, è concentrazione. Io dico sempre, io ho un esame fra un po' e se questo esame io non lo preparo, anche se ho l'ansia, per me è un lavoro di una settimana e io devo giocare 90 minuti. E' chiaro che questi ragazzi io non glielo posso chiedere perché hanno fatto veramente, però io non voglio trovare degli alibi perché la partita di Ascoli non è stata quella come la Ternana, è stata una partita che secondo me con un po' più di attenzione si poteva portare a casa il risultato. Bastava tenere un attimino di più tra prima e il secondo tempo, quando siamo sedi in campo, io sono convinto che potevamo raggiungere un buon risultato. Per me è tutto questo, un insieme e delle volte non sempre uno riesce a tenere concentrata la mente, perché per me ad Avellino è come essere ritornato quando io allenavo la Sampdoria, allenavo il Venezia, allenavo il Napoli. E' qualcosa che io voglio trasmettere a loro dentro, ma sono 95 minuti, io lavoro tutta, ma purtroppo noi abbiamo a che fare anche con delle teste, io ho a che fare anche con dei ragazzi che onestamente a me da quando sono arrivato mi hanno dato tutto, io non posso rimproverare niente. E' chiaro che qualcuno c'è qualche altro basso, come Daniele, ha degli alti picchi, però sarà l'allenatore a coinvolgerlo ancora di più, io lo voglio coinvolgere come lo stesso Castaldo, perché raggiungere un risultato importante con questa maglia vorrei che loro capissero quanto sia importante. E' tutto questo, tutto in insieme. Ma ci sto lavorando, ci sto lavorando su alcune situazioni, per me al di là dell'attacco, è importante la fase di ripartenza, è la fase di non possesso, ma la fase di transizione come la sappiamo fare. E su questo ci sto lavorando, insomma. Poi quanto riguarda l'attacco, come hai detto tu, ci sono diverse soluzioni che possiamo vedere un attimino. Se vuoi la formazione non te la posso dare perché... Ma ecco, bravo, la conosco ancora. Allora c'è un'altra, è la formula di astro, è un veloci che è su destra, oppure l'asica a destra? No, scordatevi l'asica a destra, signori, io sono un... Destra è in senso basso? No. Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. Io, l'asica ha fatto bene e sta facendo bene alto, come Belloni con l'entrata, ha fatto bene. Io l'ho trovato con Gonzales, anche se qualcuno l'ha criticato, ma Gonzales Laveroni lì mi dava ampie garanzie. Perché io credo che la squadra... Non so se voi avete visto ieri la Juventus. La Juventus... No, la Juventus è pratica, io voglio questa, una squadra pratica, una squadra che concede poco. Via. Visto, queste sono partite anche per giocatori tecnicamente sopra la media, come Moretti, da qui lei vuole sempre un grande contributo, i capori hanno presentato 5 volte, però se non vanno bene c'è lui. No, io non... La scelta non manca anche il centrocampo, magari come un gara che è riposato può essere in linea teoria di mangiù. A me Ovenga piace, è un giocatore che a me piace, poi c'è Paghera che sta bene, Moretti, vorrei tanto che facesse una grande partita, insomma. Ultima domanda in Italia. Grazie. Visto, è inutile parlare di Moretti perché credo che sia l'unico che ha la capacità di far cambiare il fronte dell'attacco, del gioco, quindi è inutile... Io la domanda invece per farci un'altra, il fatto di giocare lunedì dopo che Vicenza è entrata in un gioco oggi, lei lo considera un vantaggio o uno svantaggio? Oltretutto per le notizie che sono uscite sul Verona, non so se lei ha letto... No, stamattina non l'ho letta. ...e lo sport, io ho cominciato ad avere qualche... Dubbio. ...qualche piccolo dubbio. Ma sai, noi su Moretti hai ragione, è un giocatore che ha tutto, è un ragazzo che sta pagando un attimino anche una condizione non ottimale, però è un giocatore che cambia i fronti del gioco, sa dare la palla. Per quanto riguarda i risultati, oggi io sarò attento anche su quello, dire la verità. Questa, voglio fare invece una domanda diversa dalla tattica e i possibili interpreti che sceglierà. Per quanto riguarda la partita del 12 settembre, Sarri ha detto che odia assolutamente questo orario perché costringe a stravolgere tutti gli abbinuti anche ai diventati. Lei come vede queste partite in questo orario del tanto delle esigenze di interno del risultato? Io dico che Sarri quello che dice, in questo momento quello che dice è religione, per me non è religione. Io credo che il calcio va giocato quando ce lo consentono di giocare. Noi ci prepariamo a giocare le 12 e mezza, è chiaro che sconvolge un attimino un po' tutto l'alimentazione, il genere, l'approccio, però sta a noi a dare le motivazioni giuste, la settimana giusta nel lavorarci. Credo che, d'altronde, quando c'è un cambiamento c'è sempre di mezzo l'avellino, va bene uguale insomma. Ah, ecco, io no. Mi creda, credemi, possiamo darci del turno? Assolutamente no. Io sono andato, sapevo di Sturno, ma perché? Perché andare in ritiro? Si lavora bene a casa nostra. A Sturno... Poteva andare a vedere di Sturno, ma ormai eravamo sentito del maniere, quindi stavamo andando male. Eh, ma io ho capito. Ma la cosa importante per me non è il mio contratto, lo ripeto. Non è... Io ripeto, Avellino è la mia città, Montemarano è il mio paese. Io voglio raggiungere un obiettivo e fin quando non si raggiunge quell'obiettivo io non prendo niente in considerazione, perché Sturno so che è bello, è tutto, ma onestamente io credo che il mio pensiero è a raggiungere più presto una salvezza con l'Avellino, ecco. Allora, buongiorno, buongiorno a voi tutti, vi ringrazio per la vostra presenza. Io, nella mia qualità di responsabile dei rapporti istituzionali, ho l'incarico di diffondere alcune direttive che sono state elaborate dal tavolo tecnico della Questura di Benevento. Il tavolo tecnico è stato presieduto dal dottor Raimo e dunque passo sostanzialmente, nella maniera più sintetica possibile, senza annoiarvi, a dire quali sono le direttive che interessano sostanzialmente i tifosi che si recheranno in quella del Santa Colomba a Benevento. Diamo qualche numero, il settore ospiti, da quanto risulta gli atti, è sostanzialmente saturato, quindi si sposteranno intorno al migliaio, mille, mille tifosi nostri, si sposteranno a Benevento. Ora, voi capite che si tratta di una trasferta, voglio dire, delicata, ma io so, in partenza, prima che entro nel merito, che i nostri tifosi, voglio dire, sono persone che sono state veramente incomiabili su tutti i campi sportivi in trasferta, non lo dico perché sono delerato in questo, ma lo dico perché seguo le trasferte. In premessa voglio fare gli auguri di guarigione al nostro tifoso che era presente ad Ascoli, che è stato colto da malore e che io so aver lasciato all'ospedale di Ascoli. Entriamo quindi nel merito. I tifosi si sposteranno sia con mezzi privati, ovviamente, che con un'organizzazione fatta di pullman e quant'altro. Dunque, la direttiva è la seguente. Innanzitutto il percorso consigliato è quello dell'autostrada e quindi dell'uscita al casello di Benevento. Allo scopo di evitare quanto già successo nella partita Benevento-Bari, dove i tifosi del Bari si sono trovati nella condizione di assistere a primo tempo molto avanzato, quindi sono arrivati in ritardo, il dottor Raimo e quindi la questura di Benevento consiglia di essere presenti al casello di Benevento massimo entro le ore 10.30. Coloro che sono in trasferta con pullman organizzati verranno questi pullman scortati in una località che è denominata Calvi, la zona industriale di Calvi di Benevento, dove si procederà ai controlli e se tutto va bene, voglio dire, verranno poi di lì scortati direttamente al Santa Colomba senza un secondo riscontro, senza una seconda perquisizione, sostanzialmente senza fare ulteriore filtraggio, penso sul punto di essere stato chiaro. Coloro invece che pervengono al Santa Colomba con mezzi privati, voglio dire, dopo aver rispettato il percorso che io prima vi ho rappresentato, saranno a gruppi di auto scortati dopo una sommaria visione dell'autovettura, scortati allo stadio e qui avverrà il vero e proprio filtraggio. Vedete dunque che è importante arrivare massimo entro le ore 10.30 al casello autostradale di Benevento. Per quanto riguarda i percorsi alternativi e mi riferisco alla Statale 88 e alle altre strade, ci saranno dei blocchi e dei controlli lungo questo percorso per cui coloro che volessero intraprendere questo percorso non consigliato dalla Questura si troveranno poi a essere instradati in coda agli altri tifosi che sono già arrivati e che sono stati sostanzialmente scortati con le autovetture e quindi perderanno un sacco di tempo. Ecco, questo è il concetto che i tifosi devono avere chiaro. Questi due elementi, voglio dire, io invito a rispettarli. Quindi invito i tifosi, tutti, sia con vetture private che con altri pulmini magari organizzati a recarsi per tempo alle 10.30 al casello autostradale di Benevento. Per quanto riguarda invece i nostri tifosi disabili essi verranno direttamente scortati appena arrivano al casello appena arrivano al casello i nostri tifosi disabili mi pare che siano 12 con i loro accompagnatori saranno scortati direttamente allo stadio e lì, sempre sul pulmino introdotti nel settore distinti appositamente preparato per loro. Non ci sarà commistione aggiungo inoltre tra i tifosi disabili Beneventani e i nostri saranno separati ma credo che sul punto non ci siano ulteriori problematiche. Poi devo aggiungere che il parcheggio per i tifosi avellinesi è quello dell'impianto sportivo del Palatedeschi che sarà opportunamente vigilato. Inoltre, considerato che il deflusso per la viabilità proprio della città di Benevento è particolarmente difficoltoso perché ci sono strade strette percorsi con dei ponti che in qualche maniera restringono la carreggiata il deflusso dei nostri tifosi potrà subire qualche ritardo ma questo, voglio dire capita già in altri stadi. Un mio particolare appello riguarda, voglio dire un richiamo alle norme che sono già state comunque da me e anche dalla società più volte richiamate più volte portate voglio dire all'attenzione dei tifosi quindi si verrà normalmente allo stadio raccomando di non portare con sé elementi vietati che possono poi essere sequestrati infatti i pullman per dire una volta che verranno parcheggiati saranno sigillati e quindi voglio dire questo per ridurre il rischio la partita fa parte di quelle particolarmente attenzionate dall'osservatorio del Dipartimento di Pubblica Sicurezza a Roma non vorrei sbagliare ma la scala è di 5 questo incontro è classificato 3 quindi è un rischio medio un rischio medio io però posso dire che nell'incontro di andata non mi è parso di vedere i nostri tifosi particolarmente voglio dire in estremo conflitto faccio quindi appello ai nostri perché tutto si svolga secondo diciamo una pacatezza e una tranquillità che ci contraddistingue di solito gli avellinesi fanno il tifo per per non contro ma quindi questo è quello che ho da dire raccomando gli striscioni ma tutto il resto voglio dire lo sapete d'altronde anche per i dirigenti saranno scortati e voglio dire giusto per evitare situazioni che in qualche maniera trovino le macchine dei dirigenti isolate rispetto al percorso i nostri i nostri calciatori saranno ospitate mi pare al De La Ville questa è l'ultima cosa che dovevo dire quindi si partirà dall'hotel De La Ville lo schieramento è piuttosto diciamo corposo imponente perché poi diciamoci francamente Benevento e Avellino sono separati da pochi chilometri questa è quasi nostra cittadina tipo Inter Milan insomma e quindi il questore ha particolarmente attenzionato di suo d'incontro ed ha predisposto un imponente schieramento di polizia insomma voglio dire dunque evitiamo qualsiasi tipo di provocazione laddove si dovesse verificare tenuto anche conto che essa è ridotta al minimo perché io devo riferirvi del percorso nostro dei nostri tifosi ma è proprio fatto in modo che non vi siano diciamo contatti questo è quanto avevo da dire il dottor Beniamino Pescatore nostro addetto stampa che voi tutti qui conoscete sarà poi incaricato di vi darà proprio diciamo uno stralcio del comunicato del tavolo tecnico che io ho qui di fronte in modo tale che potrete poi voglio dire secondo la vostra programmazione parlo dei media in video ma anche di quelli sulla carta stampata poterlo proporre ai vostri spettatori o ai vostri lettori se ci sono domande sono a disposizione altrimenti penso di aver qui esaurito il mio compito di non avervi molto tediato a voi un augurio di buon lavoro vedo qui molte facce che conosco anche perché mi hanno seguito con la Guardia di Finanza e so che mi farete la cortesia di far passare il messaggio da qui a lunedì qualche volta in più in modo che queste direttive siano ben conosciute e si soddisfi a una desiderata della Questura di Salerno signori buon lavoro e arrivederci grazie a tutti